Buongiorno, io sono Augusto, sono qui con Sears del Palace già da 12 anni, sicuramente questa mia esperienza al Palace da 12 anni è molto significativa, bellissimo albergo, grande storia, ricco di tradizione, clientela molto particolare che viene da tutto il mondo e è davvero qualcosa di speciale e molto particolare ed essere qui in un albergo che festeggia 120 anni dalla sua nascita è sicuramente un onore e un piacere.